L'installare un robot Ambrosio è semplicemente semplice. Per molti modelli, un tecnico viene a casa e metterà un cable speciale che delimiterà l'area di lavoro del tuo robot. Dopo questo, connetterà le due mani del cable dentro la stazione di charge, che sarà ovviamente connetterà alla grida di potenza del vostro casa. Poi, impostare i parametri via display o app, il robot funziona automaticamente per il vostro casa.